Buonasera, è il 31 agosto di ritorno dalla piscina, un altro piccolo tuffo nello Zen. Molti dicono di sapere cos'è, molti non lo conoscono affatto, probabilmente lo conoscono tutti allo stesso modo. Uno dei racconti che io amo di più è il biglietto da visita. Keiku, il grande insegnante di Zen dell'era Meiji, era il capo di Kufuku, una cattedrale di Kyoto. Un giorno il governatore di Kyoto andò per la prima volta a fargli visita. Il suo aiutante presentò il biglietto del governatore sul quale c'era scritto Kitagaki, governatore di Kyoto. Io non ho nulla a che fare con quest'uomo, disse Keiku all'aiutante. Digli di andarsene. L'aiutante tornò dal governatore con molte scuse. No, è colpa mia, disse il governatore, e con una matita cancellò le parole, governatore di Kyoto. L'aiutante tornò col biglietto al suo maestro. Oh, è Kitagaki, disse il maestro quando l'ebbe eletto. Voglio proprio conoscere quest'uomo. Grazie a tutti.